55.000 controlli per una media di circa 150 al giorno effettuati su quasi 20.000 persone. Sono questi alcuni dei numeri diffusi dal comandante della Regione Carabinieri Forestale Basilicata, Angelo Vita, che a Potenza ha illustrato l'attività dell'arma per il contrasto ai crimini ambientali. Durante i controlli sono stati perseguiti 817 reati ambientali che hanno portato alla denuncia di 580 persone e a 85 sequestri penali, sempre sul fronte ambientale. Molto importante è stata anche l'attività di contrasto alle violazioni di natura amministrativa. Sono stati infatti contestati quasi 2.000 illeciti per un importo complessivo di più di 600.000 euro, per la massima parte introiti destinati alla Regione Basilicata. L'attività 2022 è stata, devo dire, soddisfacente perché noi siamo intervenuti nei nostri settori tradizionali di intervento che riguardano i controlli delle utilizzazioni boschive, il pascolo illegale, gli incendi boschivi, l'attività tutela della fauna che riguarda sia l'attività venatoria che l'antibraconaggio. Abbiamo fatto numerosi controlli, la situazione è in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questo significa che se la popolazione è correttamente indirizzata ed è seguita anche attraverso un processo di informazione e di prevenzione e ricepisce notevolmente questo senso della legalità e questa necessità di agire nelle regole. Tra le azioni specifiche dei carabinieri forestali anche il contrasto agli incendi boschivi sul punto, vita, ha sottolineato un dato rilevante che interessa nello specifico la città di Maratea, zona da sempre soggetta a incendi del periodo estivo, eventi a seguito dei quali insediamenti e vie di comunicazione sono esposti a un più alto rischio di erosione e caduta Massi. Attraverso un rafforzamento del pattugliamento, soprattutto negli assiliari più interessati dagli incendi, abbiamo ottenuto un risultato di zero incendi in tutta la stagione, un risultato che non ottenevamo da numerosissimi anni.